Salve, questa breve cassetta sarà incentrata sulla metodologia e sull'importanza dell'Istituto Gay Counseling da circa 6 anni offre alla comunità gay e non solo un servizio psicologico, il Gay Counseling è nato sulla base di esperienze americane e seguendo la psicologia umanistico esistenziale che dà importanza alla persona più che alle categorie diagnostiche o patologiche della persona, dell'individuo. Infatti il principale modello di lavoro del Gay Counseling è la relazione e cioè attraverso la relazione fra cliente, come preferiamo chiamarlo noi più che paziente e counselor o terapeuta o psicoterapeuta che si instaura fra di loro una alleanza utile allo sviluppo della persona, alla possibilità di cambiamento. Su questa base la metodologia di lavoro è una metodologia che integra varie esperienze, varie tecniche, varie modalità di altre teorie psicologiche, di altri approcci psicologici come la gestalt therapy, il counseling di impostazione rogestiana e quindi incentrato soprattutto sull'ascolto. Infatti questa cassetta farà una piccola dimostrazione attraverso anche delle simulate che vi faremo vedere in seguito del lavoro che svolge il counselor. Grazie. Grazie. Baby miân